Malviventi in azione nel municipio di Oliena, i vandali sono penetrati nell'edificio comunale devastando praticamente tutti i locali, compreso l'ufficio del sindaco Martino Salis. Ad accorgersi di quanto accaduto i dipendenti comunali all'atto all'apertura del municipio alle 7.30, immediatamente è scattato l'allarme con una chiamata ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione, i carabinieri della compagnia del Nuro agli ordini del Maggiore Alessio Falzone. Lo scenario che si è presentato a dipendenti e amministratori è stato sconvolgente. Computer spaccati, quadri divelti, fascicoli buttati a terra, mobili danneggiati, porte scardinate, server distrutto con lancio d'inchiostro sul monitor e sui computer. Un edificio invaso anche dalla polvere degli estintori utilizzati per accentuare i danni. Una cassaforte è stata aperta, così come gli armadi degli uffici. I locali che ospitano l'ufficio del sindaco sono stati devastati, così come anche la sala giunta. Ma davvero nessun locale è stato risparmiato dai vandali che sono penetrati da una porta laterale nel corso della notte e hanno agito indisturbati per molto tempo. Una furia spinta solo dalla volontà di provocare il maggior numero possibile di danni. La notizia del danneggiamento del municipio ha fatto in breve il giro del paese suscitando una reazione di condanna verso questo attacco alla sede delle istituzioni cittadine. Il sindaco Martino Salis ha parlato di fatto gravissimo ed ha espresso parole di condanna per un gesto che colpisce tutta la comunità olianese. I carabinieri del reparto operativo della compagnia di Nuoro hanno effettuato i rilievi sulla scena del crimine al fine di ricavare elementi utili che possano portare all'individuazione dei colpevoli. Il municipio non è dotato di sistema di videosorveglianza, ma gli investigatori non stanno trascurando alcun aspetto per riuscire a dare un nome ai malviventi. In queste ore è in corso l'inventario dei danni che sono ingenti. Sta cercando di comprendere se dagli uffici manchi qualcosa, anche per capire se si è trattato di un ride con obiettivi mirati oppure di un atto vandalico fino a se stesso.